Aeroporto, viabilità e potabilità idrica sono stati gli argomenti sui quali si è articolato ieri sera il dibattito in consiglio provinciale da Grigento. In apertura di seduta il presidente Raimondo Buscemi ha dato lettura della lettera del consigliere Calogero Loleggio che aderiva al gruppo del PDL. Subito dopo il consigliere Davide Gentile informava il consiglio di aver scritto alla Girgentiacque per chiedere spiegazioni sul problema dell'acqua inquinata a Canicattì mentre il vicepresidente Vicario Mario Lazzano nel sostenere le manifestazioni pro aeroporto chiedeva forti interventi per la viabilità provinciale e in particolare per la provinciale numero 3 che collega la statale 189 alla 640 che oggi a seguito della chiusura per il raddoppio di un tratto della Grigento Caltanissetta assorbe una forte mole di traffico. Dopo questi interventi Matteo Ruvolo dell'MPA prendeva la parola e leggeva una lunga lettera indirizzata al presidente del consiglio provinciale e per conoscenza al presidente della provincia con la quale si dichiarava indipendente. Il presidente della provincia Eugenio Dorsi ha preso quindi la parola e ha invitato il consiglio a delle manifestazioni in favore dell'aeroporto di Grigento chiedendo l'unità di tutti i consiglieri. Iniziava quindi un articolato dibattito politico su delle manifestazioni pro aeroporto che ha visto prese di posizioni differenti da parte delle varie anime del consiglio anche se all'unisono tutti sono stati concordi nel riaffermare la necessità di realizzare la struttura allicata a quale punto di partenza per un vero riscatto economico e sociale dell'intero territorio provinciale. Angelo Bennici ha chiesto al presidente Buscemi di aggiornare i lavori a martedì prossimo. Messa ai voti la proposta, i lavori sono stati rinviati a martedì prossimo, 17 novembre. Poco prima della chiusura dei lavori l'intero consiglio ha incontrato una delegazione di imprenditori cinesi.